Il giorno più bello della mia vita non è oggi, non è oggi perché è il giorno in cui ho incontrato Irene. Cos'è il giorno più bello della mia vita? È questo, perché è il giorno in cui sono stato più felice in assoluto. Cos'è il giorno più bello della mia vita? Cos'è il giorno più bello della mia vita? Siamo stati veramente emozionati ed erano meravigliosi in chiesa. Vediamo l'ora di festeggiare insieme adesso. Cos'è il giorno più bello della mia vita? 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 Grazie a tutti